L'Aquila dimostra ancora tutta la sua forza e dopo l'Evicor Stadium sbanca anche il Bianchelli di Senigallia. Un gol per tempo e tre punti pesanti da mettere in cascina prima di tornare a giocare in casa dopo lo scivolone col Monte Rotondo. Epifani mischia le carte e mette dentro Carbonelli a supporto di Banegas e Galesio, confermando Mantini al posto di Del Pinto e Michelin in porta. 4-3-1-2 anche per Aldo Clementi, voglioso di rifarsi contro un Abruzzese dopo i precedenti stagionali. La prima emozione è di marca marchigiana, col solito Keriota bravo a liberarsi per il tiro, ma la conclusione non fa male a Michelin. Passano solo dieci minuti e l'Aquila, alla prima vera occasione, cambia volto al match. L'incursione di Carbonelli è improvvisa, la sfera finisce a Galesio che con la forza del fisico si libera degli avversari e col tocco da calcetto infila Sarti. E' la terza marcatura stagionale per il bomber argentino, brava a sfruttare la potenza atletica in suo possesso. La gara poi vive fasi di stanca e offre davvero poco con gli Aquilani, bravi a controllare le folate del Senigallia. Sul finire di primo tempo Keriota e compagni protestano all'indirizzo del direttore di gara per un doppio episodio. Prima Brunetti vince il corpo a corpo con Broso, poi lo stesso capitano si vede carambolare il pallone sul gomito. Il fischietto Veneto fa bene a lasciar proseguire senza fischiare la massima sanzione. Dopo tre minuti di recupero si chiude la prima frazione con gli abruzzesi bravi a sfruttare la prima vera occasione e poi a difendersi senza affanni. La ripresa inizia praticamente al decimo quando Epifani toglie Carbonelli e torna al 4-3-3 per abbassare il baricentro di una vigor che si era proposta troppe volte in zona tre quarti. Quattro minuti dopo ancora Keriota a cercare la sortita ma le maglie difensive aquilane si chiudono a meraviglia. Lo stesso numero 7 ci prova dopo un rimpallo favorevole ma il pallone termina alto addirittura sopra i tifosi della curva nord-rosso-blu. L'Aquila si rivede in attacco dopo alcuni cambi tra cui quello di Del Pinto e Battistoni. Grazie a una punizione di Banegas Sarti si prende gli scatti dei fotografi, il numero uno è attento e manda in angolo. Tre minuti prima della mezz'ora l'Aquila chiude i conti, l'apertura di Del Pinto per la corrente Sarrizzo è meravigliosa, il numero 19 cambia tutte le marce possibili, supera il suo avversario e appena in area scarica un sinistro imparabile sotto la traversa. La vigore è stordita, incapace di reagire al cospetto di una formazione che sa cosa fare in tutti i suoi reparti, addirittura sono gli ospiti a sfiorare la terza marcatura col colpo di testa di Persiani, subentrato a Galesio. L'ultimo assalto è dei Vigorini col neoentrato Schaeffer ma il mancino risulta troppo debole per un attento Michelin. Dopo cinque minuti di recupero l'Aquila può alzare le braccia al cielo insieme a 200 tifosi rosso-blu. A corsi al Bianchelli!